La sede degli uffici dell'anagrafe centrale di Piazza Cardinale Niccolò da oggi ospita il Baby Pit Stop, un'area attrezzata per le mamme che hanno bisogno di allattare o cambiare il pannolino ai bambini mentre sono in coda. Per i più grandi è previsto anche uno spazio gioco. L'iniziativa fa parte del progetto nazionale di Soroptimist Club Italia e Comitato Unicef in collaborazione con il Comune di Prato. È il secondo sicuramente che abbiamo nella città di Prato, siamo contenti di farlo proprio qui nell'ufficio dell'anagrafe che come tutti sappiamo è un ufficio molto frequentato tanto anche dalle mamme e dai loro bambini. Un'attenzione in particolare è che questa città ha avuto e ha da sempre. Prato tra l'altro sapete è città amica dei bambini e questo è un altro pezzettino, un altro tassellino importante. Un luogo sicuro, accogliente e discreto realizzato dall'architetto Mariella Corsi. Il pit stop è il momento in cui il pilota si ferma per fare rifornimento e per cambiare le gomme. Quindi il baby pit stop è la mamma che si ferma col bambino per allattarlo, o anche il babbo, perché esiste il latte artificiale, può appunto allattarlo e cambiare il pannolino. Ecco, qui abbiamo come vedete il fasciatoio, che per ora la sedia e il fasciatoio sono qua, ma per la foto in realtà andranno nascosti qua dietro. E poi c'è l'area giochi per i fratellini che magari aspettano. E quindi insomma questo è il punto che noi abbiamo creato. Grazie. 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 Grazie.